Scontro frontale tra uno scooter ed un'auto questo pomeriggio poco prima delle 15 a Sant'Orso lungo la strada provinciale 92 davanti al bar Porvere di Caffè. Uno scooter di grossa cilindrata condotto da un fanese di 34 anni residente a Bellocchi diretto verso Sant'Orso per ragioni ancora al vaglio della polizia locale ha invaso la corsia opposta da dove procedeva in direzione Codma un settantenne del posto a bordo della sua Fiat Punto che si è trovato improvvisamente davanti il Centauro e che nel tremendo impatto ha distrutto completamente l'anteriore dell'auto oltre ad impattare violentemente contro il parabrezza. Annule Valso da pare del settantenne che era appena uscito dal cancello di casa per recarsi ad accudire l'orto a tre ponti il tentativo di frenata e di schivare la moto. Me lo sono trovato davanti all'improvviso e sbucato dalle auto incolonnate per superarle ma ha trovato me davanti e non ho potuto fare nulla. Ha riferito spaventato ed agitato l'anziano signore che è stato visitato anche dai sanitari del 118 ma che non ha riportato nessuna conseguenza fisica nell'incidente. Diversamente andata per il motociclista come da protocollo è stato attivato l'elissoccorso che in pochi minuti è atterrato a pochi metri dal luogo dello schianto ed ha caricato il 34enne che ha riportato fratture multiple e diverse contusioni ma che è rimasto sempre vigile e cosciente per trasportarlo d'urgenza al torrette di Anconi. Sul posto oltre ai sanitari anche tre pattuglie della polizia locale che hanno oltre ai rilievi gestito la viabilità particolarmente intensa ora in questo tratto di strada essendoci ancora i lavori per la nuova uscita dell'autostrada. Sono intervenuti anche a supporto e per mettere in sicurezza l'intera area una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano.